Dall'estate tanti infortuni un problema dietro l'altro poi oggi si è fatto trovare non pronto prontissimo sono sono veramente contento della della vittoria della squadra perché nei ultimi mesi io e la squadra abbiamo sofferto tanto io ho sempre detto che dopo la tempesta arriva il sole e oggi è arrivato perché siamo usciti con il cuore da questa partita come una squadra e sono molto contento di tutti i ragazzi che ci siamo trovati pronti e abbiamo vinto una partita molto difficile su un campo molto difficile Come ti senti? Ti abbiamo visto entrare molto bene in fase difensiva anche in fase di impostazione non solo in fase di chiusura e poi un gol da attaccante vero Sì mi è mancato tanto il campo quindi non vedevo l'ora di entrare dentro il campo e di farmi vedere che sono pronto mi è bastato una bella palla e lì ho fatto il gol Sul tuo calcio è stata una risultanza clamorosa un po' tutta la rabbia, la sfortuna, tutti gli eventi negativi di tutti in questi ultimi mesi sembravano che fossero andati via con quel pallone buttato in fondo alla rete Sì sì mi è piaciuta tanto la risultanza di tutti perché abbiamo come ho detto prima abbiamo sofferto tanto nei ultimi mesi e non vedevo l'ora di vedere la squadra insieme in campo ce l'abbiamo fatta e abbiamo fatto vedere a tutti che possiamo giocare bene e di vincere le partite perché i ragazzi se lo meritano tutto Ora si torna al picco, un'altra partita importantissima contro il Bari Cambia qualcosa nella testa della squadra con questa vittoria maturata alla fine? Certo, una vittoria così ci fa cambiare tutto Adesso andiamo con un'altra testa con la partita contro Bari Perché sarà una partita bella al picco davanti ai nostri tifosi e vogliamo far vedere che non siamo una squadra che deve vincere sempre Vogliamo far vedere a tutti che siamo forti e dobbiamo vincere quella partita